Buongiorno e benvenuti al concetto appuntamento con Piana Stampa, la segna stampa di inquieto notizie e oggi venerdì 18 gennaio cominciamo sfogliando le pagine del quotidiano della calabria che titola al reggio solo problemi normali mille persone per ascoltare il governatore ed ex sindaco su un caso montato ad arte giuseppe scopelliti ha detto la sua sui conti del comune che ha amministrato a centropagina vogliono eliminarmi politicamente io non mi fermo intervista ad angela napoli e andiamo ad approfondire proprio questa notizia lo facciamo a pagina 8 così vogliono eliminarmi angela napoli fuori dal parlamento e l'intercettazione nel casolare dei mancuso la deputata getta ombre l'andrangheta avrà qualche rappresentante eletto molto forti quindi le parole della parlamentare di torinova angela napoli che ha appena abbandonato futuro e libertà diamo pagina 32 immigrati strutture in tilt non tutti gli oltre 3.000 africani riescono a essere raccolti nei campi di rosarno e san ferdinando i due comuni a stento garantiscono 500 posti di accoglienza agli stranieri in tanti risiedono in casolari nelle campagne ci manca tanto il nostro diabì a dicembre il giovane guineano travolto e ucciso da un'auto e a candidoni in 40 vivono nella casa di roccata l'occupazione coordinata dalla san e sorta tra i territori di serrata e candidoni il gruppo di extracomunitari costretti a sopravvivere in condizioni disumani brevi di cronaca rosarno in carcere a scontare tre anni e tre mesi san giorgio morgetto denunciato per rapina e a torrenova in frantumi i vetri della scuola piana il pd chiede chiarezza a romeo il centrosinistro di torrenova incalza il primo cittadino sullo stato dei conti dell'amministrazione da cannata abbordate sull'aumento delle tasse e sui tagli ai servizi per i cittadini rizziconi i progettisti ascoltano i cittadini per stilare il psc di rizziconi e a palmi cosa mia al via lo stralcio in aula le eccezioni sollevate dal collegio difensivo fondo pagina il budello tiene i cittadini con il feto sospeso a gioia tavolo tensione per le abbondanti piogge è sempre a gioia ex biblioteca non è un bene da sottoporre a tutela la direzione regionale sull'edificio di gioia tauro passiamo alle pagine di gazzetta del sud reggio i conti discopelliti dice l'ex sindaco e attuale presidente della giunta regionale campagna di odio nei confronti della città resterò alla guida della regione palmico scagallico si apre il secondo processo e andiamo all'interno ad approfondire a queste notizie lo facciamo iniziando da pagina 31 emergenza rifiuti tra impotenza e rassegnazione piana oggi vertice dei sindaci alla mezzia centro pagina seminare appare inchiodata alla sfida bonamico gioffre a maggio le elezioni amministrative rosarno deve scontare tre anni e tre mesi in carcere sono le brevi di cronaca e attore nuova danneggiate finestre della contestabile e a città nuova il paniere dei prodotti del parco l'obiettivo è promuovere l'identità la spromonte come simbolo da valorizzare il sindaco bellofiore entra nell'orbita del pd questa l'anticipazione di gazzetta del sud in particolare di alfonso naso giocatauro ha votato pure per la disegnazione dei candidati democrat al parlamento e avrebbe già annunciato ai suoi fedelissimi possibili novità con lui anche i militanti ancora iscritti all'udc cittadino che si prepara a rivedere gli equilibri interni questa quindi l'anticipazione senza ancora però bisogna dire niente di ufficiale fatta da gazzetta del sud gioia tauro fioccano bollette dell'acqua protesta e diffida del comune nel merino dell'ex società giosetta centinaia di contribuenti ex biblioteca nessun vincolo culturale a rizziconi è morta a 101 anni angela petullà mele cuccata direttrice delle poste domiciliari i risparmi sottratti a decine di risparmiatori rosano san ferdinando maltempo agricoltura in ginocchio critiche le condizioni dei migranti chiesto lo stato di calamità e ancora meli cucca discarica ambientalisti in guardia anche ieri hanno presidiato il sito della zingara palmico scagallico alla sbarra anche due avvocati si è aperto il processo scaturito dalla seconda fase dell'inchiesta denominata cosa mia sotto accusa la rete dei presunti fiancheggiatori i difensori chiedono all'unità dell'ordinanza di custodia cotelare un filone giudiziario a brescia faia di barretteri appalti sulla tre ultimi testi prima della requisitoria sono 47 gli imputati davanti ai giudici della corte d'assise opere pubbliche cantieri aperti a polistena delineata una mappa di lavori che coinvolgeranno scuole strade il parco il mercato e l'illuminazione ancora polistena piana la cis le rinove vertici nella struttura dell'azienda sanitaria si è celebrata l'assemblea congressuale taurianova il pd reagisce romeo non dice tutta la verità l'analisi del sindaco sulle difficoltà economiche del comune e sulle responsabilità politiche non è arrivato oggi in redazione non è arrivata l'edizione di calabria ora per cui termina qui questa edizione di piana stampa che torna lunedì mattina alle 8 e 30 come sempre subito dopo il caffè a voi tutti da lucero di no l'augurio di una buona giornata